Ti devi alzare alle 5 per prendere un volo alle 7, vai a letto alle 3 e se hai tutta l'adrenalina non dormi, ti fumi un cannone e vai a letto. Io mi registrava le puntate perché il Bresting si vedeva solo su Sky e mi faceva pagare un euro ogni cassetta. Io ero arrivato a un debito di 60 euro che per un ragazzino di 10-11 anni erano troppi. Io una volta ho preso un volo da uno che si è lanciato da quell'altezza lì, ero sdraiato su due tavoli. Io non ho camminato due settimane. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nostro nuovo episodio di Fit Cash. Oggi con noi abbiamo il piacere di avere un grandissimo ospite, un ospite un po' particolare, il grandissimo Red Scorpion. Grazie mille per l'invito, già noi ci conosciamo, è un piacere rivederti. Ci conosciamo già da un po'. Vedo che adesso condividiamo la stessa capigliatura. Ah sì? Sì, però quando ti conobbi avevi i capelli. È vero, è vero. Già ti invidiavo allora, adesso ti invidio un po' me. Abbiamo già fatto uno spoiler di cosa c'è sotto la maschera, però sappiamo che sei... Sì, un bellissimo ragazzo rasato. Sì. Quindi come potranno notare i ragazzi che guardano questo video, questa puntata del nostro podcast, tu sei un personaggio un po' particolare già per come ti presenti. Quindi raccontaci un po' di cosa ti occupi. Ok, non faccio la drag queen, anche se ho vestiti aderenti e colorati. Potrei anche essere bravo, devo dire. Io lavoro nel mondo dello spettacolo e più precisamente sono un lottatore professionista di wrestling, quindi mi guadagno da vivere esibendomi in giro per il mondo. E sono anche un allenatore di wrestling, ho un'accademia di wrestling chiamata Bologna Wrestling Team perché la mia sede è a Bologna, in Emilia-Romagna. Una federazione che è la Wrestling Megastars, con cui la facciamo degli eventi molto grandi, invitando anche ospiti della WWE. e ho uno studio privato chiamato la Tribe Zone, quindi la Tribù, in cui c'è un ring da wrestling regolamentare con materassoni, attrezzatura da pesistica, da corpo libero, eccetera. Ed è un'altra attività compatibile al wrestling e collaterale perché dentro facciamo anche box, corsi di powerlifting, abbiamo la squadra di powerlifting, siamo quattro soci. Quindi tutte queste attività che si collegano al wrestling, che non comportano solo il lottato. A Bologna? Questo sì, Imola, io vivo a Toscanella di Dozza, Imola, lì c'è la mia sede, il mio studio privato e a Bologna ci sono i corsi di wrestling del Bologna Wrestling Team, che è la federazione, la scuola che ho fondato io ormai 12 anni fa. Che bello. E com'è nata questa passione? Cioè cosa ti è scattato nella testa al giorno che hai detto voglio fare il wrestling? Allora, facendo un po' di autoanalisi, devo ammettere che da piccolino ero sempre affascinato da sport di combattimento, sai guardi i rocchi, poi dopo i football, rugby, karate kid, tutte quelle cose lì. Quindi ho fatto un po' di rugby, ho fatto karate, eccetera, eccetera. E per puro caso, un giorno a casa del mio miglior amico del tempo, si chiama Alex, c'era il wrestling in televisione e da lì, colpo di fulmine, ho iniziato a guardare tutto quello che potevo trovare sul wrestling, lo guardavo, mi ricordo che avevo fatto i debiti con un mio amico, chiamiamolo amico, che mi registrava le puntate perché il wrestling si vedeva solo su Sky e mi faceva pagare un euro ogni cassetta. Io ero arrivato a un debito di 60 euro che per un ragazzino di 10-11 anni erano troppi. E poi dopo, nel 2006, mi iscrisi ai primi corsi di wrestling dove purtroppo… Quanti anni avevi? Avevo 16 anni, sono del 90. Iniziai a fare wrestling in maniera come fanno tutti e sbagliando, guardandolo dalla tv e imitandoli, però avevo uno spazio nella palestra della mia città tutti i venerdì per quattro ore, montavamo i tatami da lotta, guardavamo quello che c'era in televisione e imitavamo i ragazzi. Tutto da autodidatta. Sì, sono passati 20 e più anni, non è cambiato niente, continuo a fare quella roba lì solo con più colori, più muscoli, più scena, più maxi schermi, fuochi d'artificio, quelle cose lì. Mi iscrisi ai corsi di wrestling nel 2006, purtroppo l'allenatore era un truffatore, non era un vero allenatore di wrestling, ma il wrestling andava bene, su Italia 1 era un buon mercato, quindi ci siamo iscritti in 40, dopo due settimane chi si era rotto la spalla, chi si era fatto male. Sono rimasto lì per cinque anni in cui non ho imparato niente di strutturale riguardo al wrestling, cioè il wrestling è una roba precisissima, bisogna camminare in un certo modo, cadere in un certo modo e quindi mi spostai in un'altra scuola di Roma perché appunto questo allenatore e i suoi compagni avevano creato questa macchina, malavitosa, mettiamola così. Ma perché truffatore? Truffatore perché adesso metto, erano un gruppo di persone di cui poi c'era questo leader che poi è una persona con cui poi negli anni, 15 anni dopo mi sono ritrovato, abbiamo avuto i chiarimenti, io per un ragazzino che 15-16 anni, quindi se ti devo raccontare linearmente che cosa è successo è, mi iscrivo ai corsi di wrestling attraverso questa figura che ricordava un po' Undertaker o Sting, gigantesco, muscoli, capelli lunghi, quindi un bambino di 15 anni vede, ti piace il wrestling, uno spettacolo così, tutto quello che ti dicono tu ci credi, anche che gli asini volano. Succedeva che noi andavamo in queste palestre ad allenarci, le cambiavamo spesso e le cambiavamo spesso perché lui duplicava le chiavi della palestra e ci andavamo di domenica o abusivamente quando non c'era nessuno e magari capita che lasciavamo sporco e quindi poi venivano i controlli e ci spostavamo sempre. Hanno combinato quel gruppo di persone degli atti terribili, proprio fregando anche mi ricordo l'Avis o tante organizzazioni che magari gli davano dei soldi per organizzare degli show e la cosa più brutta fu che mi ricordo che un giorno tornando da un allenamento di wrestling sempre del tempo quindi dove non si imparava niente, anzi c'era un grosso rischio di farsi male lui mi disse che aveva un cancro al cervello e che sarebbe morto. Non era vero, però puoi immaginare un ragazzino di 16 anni, il suo eroe gli dice una roba del genere fu una manovra per tenere tutti noi studenti assoggettati, tu non vai a discutere con uno che tra due anni muore di cancro, anzi è un tuo eroe, quanti incontri ha fatto in giro per l'Europa spacciandosi per un professionista con questa scusa, poi collaboratori poco affidabili, insomma dopo un po' la verità viene fuori quindi lui dovette sparire e io come un randaggio cosa fece? affittai due garage sotto a casa mia che ho ancora, ci metto la macchina, misi i tatami e iniziai ad allenarmi da solo. Gli orfani di quel corso ad uno ad uno vennero, cambiai dal garage a una palestra che mi ricordo con quello che potevo permettersi sia alla gava era una schifezza, poi andai a Bologna in un capannone e poi piano piano iniziai a collegarmi al grappling Brazilian Jiu Jitsu, utilizzare i loro spazi a mettere il ring, fino a che poi anni e anni e anni dopo ho preso io il mio capannone, ci ho messo il ring e ci ho fatto tipo un piccolo performance center, cioè è tutto per ospitare atleti e per prepararli nel miglior modo, però le partenze, la mia partenza non è stata felice né emotivamente né a livello di apprendimento, credo di essermi rotto anche l'osso sacro perché ci faceva fare delle cadute disumane, mai andato a fare un controllo, magari sedermi per un anno. Approfondiamo questa cosa qui, perché molti pensano che nel wrestling sia tutta finzione e non ci sia comunque una prestazione fisica, ti rischi anche di farti male. Ti voglio raccontare questa cosa qui, che appunto prima ne parlavamo ma non volevamo farci scappare dei dettagli. Certo. Io sarò ormai 12 anni, se contiamo ho iniziato a fare wrestling circa poco più, poco meno di 20 anni fa, da 10-12 anni è la mia occupazione, quindi ho lasciato il mio lavoro che era un bellissimo lavoro come tecnico di laboratorio in ambito ceramico, macchina aziendale, buoni pasto, benefit, regalo di Natale, cere aziendali, vacanze, tutto. Ho lasciato quella roba lì per allenare nei miei corsi e fare gli spettacoli. Quando mollai il mio lavoro per tentare la fortuna nel wrestling andai a fare delle lastre, dei controlli di come è messa questa macchina prima di fare ancora di più di quello che sto facendo e mi trovarono una vertebra spostata, l'ultima lombare, la prima sacrale, con uno shift di mezzo centimetro. A me faceva sempre male quel punto della schiena. La dottoressa disse evitiamo sport di forza, evitiamo... E io dicevo questo è il mio lavoro, faccio sollevamento pesi e lei disse guarda se fosse per me io tutta quella roba la abolirei tutta. Per dirti, col passare del tempo poi paradossalmente mi sono affezionato al powerlifting e la mia schiena è diventata più forte, con quello che mi era stato detto di non fare ho integrato lo stretching, lo yoga, ho messo su massa muscolare, quindi magari quello che tu vedi è un corpo sano e robusto, però io ti posso indicare tutti i punti in cui per l'ogorio ci sono degli infortuni o delle discopatie. Mi è uscito l'omicro claveare, qui lo puoi vedere, vedi che l'osso è fuori, ci puoi aggrappare, ho più punti della schiena dove le vertebre sono spostate, mi sono rotto la mandibola, sicuramente ho avuto qualche tranna cranico, mi sono operato di ernia inguinale, caviglia lasciamo perdere, la giravi, diventava nera, sapevi che era partito qualche legamento e stavi fermo un po' o fasciavi con lo scotch, perché se sei in tour non ti puoi fermare, ti fasci con lo scotch quello domo, quello grosso da pacchi, quindi questo era. Però se tu conti la tipologia di infortunio che un lottatore di wrestling ha, io sto benissimo, non ho mai avuto niente di serio. Ma infatti io quello che, ora io non sono una grande intenditrice di wrestling e te lo dicevo anche proprio prima di iniziare, infatti ti ho detto sicuramente ti farò un sacco di domande che... Ma fa schifo il wrestling, non so perché ti abbiamo preso qui oggi. No, non è vero, io mi ricordo ai tempi, John Cena, non dico una cazzata. Vabbè ti ricordi dei più belli. Esatto, però io ero molto piccola, quindi ho non troppa diciamo, non troppi ricordi, però non ho mai ben capito come funziona, infatti io prima di iniziare ti ho detto, cioè ti farò delle domande magari stupide, ma proprio da persona totalmente ignorante nell'argomento, perché io ho sempre visto questi uomoni che si picchiano, si tirano addosso sedie e robe, poi negli anni ho scoperto che comunque erano da una parte alcune cose comunque montate, ora non so se soltanto nelle show o anche... Rispondo alla tua domanda nel miglior modo per far comprendere qualcosa che solo negli ultimi anni è stato reso pubblico. Una volta il wrestling era visto come un circolo chiuso, non potevi entrarci a meno che non passavi degli allenamenti durissimi in cui cercavano di non farti passare, cioè se passavi voleva dire che eri uno dei lottatori migliori al mondo, un Hulk Hogan, un John Cena, un Ric Flair, un Bret Hart, cioè quelli, i tempi sono cambiati. Si utilizzava anche un tipo di linguaggio chiamato carni, linguaggio da carnevale, quindi noi parliamo una lingua, se io sono per dire con un lottatore inizio a parlare in gergo stretto, uno non capisce ed è il modo con cui noi possiamo chiamare le mosse sul ring. Vuoi fare un esempio? Esempio, se io devo dire evita un pugno o evita un braccio teso e fammi questa mossa, io ti dico duck the line, double leg me. E uno dice, che cazzo ha detto questo? Duck the line sarebbe evita il braccio teso, double leg è un tipo di schienamento chiamato sunset flip o double leg, lo faccio sempre, ti salta attraverso come un salto lunare, ti prende e ti chiude a terra. Quindi, e ce ne sono tantissimi, uno può dirti slingshot, uno può dirti up and over, uno può dirti do-si-do, liver pull heads, ogni paese ha anche i suoi tipi di incastri e di mosse. Una persona normale non capisce niente, quindi se sono io giù con il lottatore e non ci ricordiamo una cosa, posso dire ok, duck this, double leg, cross body, powder out, e uno non ne ha un'idea. Questo è il linguaggio carni che veniva utilizzato per mantenere all'oscuro quello che si faceva. C'è un'altra parola chiave che si chiama kayfabe, cioè se io e Gian siamo due lottatori che si devono affrontare questa sera a Milano per il titolo italiano, Scorpion il buono, Gian lo sfidante, io e Gian non ci faremo vedere al McDonald assieme. quello si chiama kayfabe, quello si chiama prendere la storia e portarla anche un po' fuori dal ring perché il pubblico lo vuole vedere. Quindi immaginiamo un incontro di box, due pugili si possono stare simpatici ma la regola ci insegna che la box come l'UFC, come tanti altri sport hanno preso dal wrestling, entrate con le musiche, giacconi, fuochi d'artificio. Il wrestling è sempre fatto così. Lo stesso Muhammad Ali era un grande fan del wrestling, gli piaceva un lottatore che si chiamava Classi Freddy Blassi e Muhammad Ali ha imparato a parlare così grazie a lui. Muhammad Ali era quello che ti diceva io pungo come un ape, lui faceva i promo del wrestling e li ha imparati guardando il wrestling, ma questi sono super divertenti, sono eccitanti, la box è solo puglia in faccia, Muhammad Ali trovi tutte le sue interviste. Io ho un guardiano che non si vede ma si sente, che mi protegge ma non chiede niente, faccia tutti questi promo su Dio, su questa dote innata. Quindi cosa succede? Erano tutti modi per rendere la sfida reale anche al di fuori del ring. Quindi come dicevo Yejan non ci faremo vedere che mangiamo la pizza, però cosa facciamo Yejan? Allora innanzitutto siamo due intrattenitori che lavorano nel campo del wrestling, quindi possono. Scrivere, quindi sceneggiature, realizzare i propri trick magici, perché un buon lottatore di wrestling è anche un bravo illusionista, quindi io ho i miei trick, lui avrà i suoi, cose a cui io sono portato, voli, modi di dare i pugni eccetera, lui ha il suo stile, quindi poi si aggiungono gli stili e da lì dopo si va a comporre quello che diventa in sé il match di wrestling. È uno spettacolo. Sì, cioè se tu, ti faccio questo esempio qui, vi piace la Marvel? Sì. Immagina che la Marvel metta in scena uno spettacolo a Broadway dove tutte le sere c'è una sfida fra Spider-Man e Thanos. Se Spider-Man e Thanos, gli attori, fossero dei lottatori di wrestling, tutte le loro scenografie, tutte le loro cose le farebbero da soli, senza controfigura, live, senza Chuck, con un tempo limite. Quello fa il lottatore di wrestling di diverso dall'attore. Il lottatore di wrestling deve ricordare un copione base, deve essere capace di improvvisare, perché può capitare un infortunio al pubblico che non gli piace quello che sta vedendo. Il copione te lo scrivi tu. Può scriverlo anche un writer, però molte volte il lottatore partecipa nella scrittura. Per il semplice fatto è, mi dicono di dire una roba, non me la sento mia. Mi dicono di fare una mossa, non me la sento mia. Fai una mossa che non è tua, rischi di mandare l'altro in ospedale in maniera irreversibile. Cioè, la bravura di un lottatore di wrestling, ci sono degli atleti fenomenali nel mondo, ma la bravura di un lottatore di wrestling è da lanciarsi da un paletto. Io peso 95 kg, mi lancio di gomito sulla tua trachea e non ti ammazzo, ma sembra che ti ammazzo, vuol dire che devi essere esageratamente bravo. E quelli sono i miei trick. Io sono quello che di solito quando colpisce sembra che ti ha svitato la testa. Io mi lancio dal palo di ginocchio sul tuo naso, ti tiro un pugno sulla bocca che ti tocco a malapena, ma riesco a fare il rumore. E quelli sono i miei trucchi magici. Il pubblico, io lo faccio anche davanti, non se ne accorge, non capisce qual è il nesso. Poi c'è la parte reale, perché comunque siamo dei combattenti, quindi molte mosse sono reali, sono degli shoot. Cioè io posso prendere uno che pesa il doppio del mio peso e tirarmelo dietro in German Suplex, posso prendere uno molto pesante e mettermelo in spalla e ribaltarlo. È questo mix di reali abilità fisiche e di lotta, sceneggiatura, copione e grandi personaggi del mondo della politica. Perché il lottatore di wrestling è un politico. Perché è un politico? E il pubblico tifa per il suo partito, molte volte un partito è più odiato, un partito è più amato, ma il lottatore vuole farti sposare la sua causa. A me non mi interessa, Gian mi ha rubato la ragazza, io e lei ci conoscevamo alle superiori, ci eravamo promessi questo, questo e quello, parto per fare il militare, ritorno, e adesso lo trovo con lui, voglio regolare questa cosa. Io e te sul ring, chi vincerà allora? Capito? Poi magari io e te facciamo il match sul ring, lei di nascosto mi fa perdere, quindi aiuta la tua vittoria e lì si crea la faida, capito? È un esempio, però sono storie prese dalla vita quotidiana, il capo che ti ammorba e ti rompe le palle, la sorella che si mette col tuo uomo e dopo le contese si risolvono sul ring. Ok, però la mia domanda è no? Sì. Tu hai questa bella cinturona davanti, quindi diciamo che cosa hai vinto. Certo, so già cosa mi stai per chiedere. Ok, chi è che decide chi vince? Se è, tra virgolette, organizzata, si può dire. Immaginati come girare un film, ci sono gli scrittori. Ok. L'unica cosa è che gli scrittori di adesso raramente inventano delle storie, le riarrangiano, cioè la Marvel prende quello che è stato visto sui fumetti, non è che la Marvel si è inventata che Thanos deve avere il guanto. Thanos per un momento è stato campione del mondo, se vogliamo fare il parallelismo, aveva tutte le gemme, ha distrutto il mondo, l'universo, quello che è, no? Era come un John Cena o un cattivo, piuttosto. Tony Stark ha vinto un campionato del mondo, ha avuto il guanto, se consideriamo quello come la loro massimo. Quindi, cosa succede? Gli scrittori creano e inventano la possibile storia migliore per creare engagement nei fan. La possibile storia migliore. Decidiamo Red Scorpion contro Jan, che deve portare questi lottatori al titolo italiano. Magari Jan è il cattivo e vince il titolo. La storia di Red Scorpion sarà si deve allenare, deve darsi da fare per diventare il più forte possibile e sfidare Jan. E magari facciamo più sfide in cui Jan mi batte, ma io ci arrivo vicino, finché non ci arrivo sempre più vicino, perché non ci arrivo più vicino. Magari vinco un torneo, ritorno a sfidare Jan, ci affrontiamo nella gabbia e quella è la sfida finale. Come facciamo a decretare chi deve vincere la cintura? Due modi. Il lottatore che vince la cintura o è visto come un potenziale investimento di mercato, esempio io vedo Jan e dico ok, magari è inesperto, ma se io gli metto una cintura addosso, questo mi va in giro e mi fa tutti i telegiornali, tutti i programmi della mattina, tutti i più stupidi, dalla Barbara D'Urso a quello più importante con Alberto Angela, capito? Perché è uno che ha una presenza. È uno che funziona. quando la WWE fa veramente i soldi e quando i cattivi hanno il titolo. Perché? La gente non guarda mai i film dove c'è tutto che va bene, va bene fino alla fine e poi va male. Guarda i film dove tutto va male e poi forse va bene alla fine. Avere un campione cattivo assicura alla federazione di vedere quali lottatori buoni sono più valutati, più cercati dal pubblico. C'è stato il momento in cui John Cena è stato quel lottatore che ha iniziato a vincere, 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 a creare il suo nome, a avere la sua fanbase forte. Poi gli hanno dato il titolo del mondo e poi gliene hanno dato altri 16 per farti capire. Quindi molte volte immaginati come te che lavori in una fabbrica per farlo capire all'uomo comune. Te che lavori in una fabbrica e arriva il proprietario che ti fa prima caporeparto, poi ti fa capo del settore, poi ti fa commerciale, poi diventi amministratore delegato e superazioni, capito? Sì, però ecco, secondo te non c'è un po' poca meritocrazia, così è un po' più mafio, un po' più di mafia, tra virgolette, soprattutto. E' il che porta denaro all'azienda. No, è il contrario, cioè raramente una persona che vince un titolo, cioè perché, la dico proprio come la dico, perché facendo l'insegnante io come se mi mettessi, giudico i miei allievi come se io fossi il pubblico. Quindi perché dare un titolo a Red Scorpion, proprio inteso come Red Scorpion, e tu dici, ma potrebbe essere una scelta mafiosa. Ok, diamo un titolo a Red Scorpion perché ha costruito la sua immagine ed è un lottatore che gira in tutto il mondo e dove va va ci fa fare bella figura, al paese o alla federazione. Ha lottato con alcuni dei lottatori più importanti che ci sono adesso in attività. E' molto conosciuto sui social, fa la televisione, eccetera, eccetera, eccetera. Sa parlare bene, non dice mai cazzate, per cui rischia di essere cancellato, ci sono quei movimenti che si insidiano nei tuoi profili e ti rovinano a vita. Ha un modo di parlare adeguato, quindi sa parlare, sa intrattenere, sa combattere, ha una grande esperienza, eccetera, eccetera. Questo potrebbe rendermi papabile per dire una federazione vuole cavalcare con me. La meritocrazia che dici tu è giusta, non ce l'hai solo sul ring, c'è un lottatore per vincere una cintura, c'ha altri cinque, sei aspetti in cui deve essere meglio degli altri, meglio degli altri fisicamente, meglio degli altri come schedule, meglio degli altri anche come stabilità familiare, non vogliono, detta come un puttaniere che crea dei gran problemi con la moglie, che picchia la moglie, adesso se vedono che fai quelle robe lì ti licenziano. Devi essere, tra virgolette, un corporate guy, però con la tua identità, capace di far divertire, sono quei lottatori un po' più trasgressivi, che hanno un humor anche un po' più dark come carattere, ci sono quelli che sono proprio i classici super atleti americani, giacca e cravatta, anelli d'oro e cintura. Quindi, ti faccio un esempio, i lottatori che hanno fatto più soldi e quindi sono i migliori, dico, ma quello migliore è quello che fa più voli, no, 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 se no uno andrebbe al circo, uno vuole vedere l'intrattenimento, quindi i migliori lottatori della storia, sono sicuro che molti di voi li conoscete, molti di loro voi li conoscete, sono Hulk Hogan, John Cena, The Rock, Stone Cold, quello pelato, Roman Reigns, che è di ora, esatto, no, no, già hai detto bene, te non guardi il wrestling, ma comunque, lui su tutti, ce l'ho impresso, perché? Perché quelle figure lì hanno trasceso il wrestling, si sono fatte un culo maggiore rispetto a tutti gli altri per avere il fisico, sforare nel cinema, nella tv, nel mondo dello spettacolo, John Cena ha fatto dischi rap, John Cena è stato sponsorizzato dalla Gillette, The Rock, che cosa non ha fatto nella sua vita, e Hulk Hogan, il primo lottatore che ha iniziato a fare seriamente i film, proprio i film tipo cine panettoni, ma coi muscoli, quindi, quei lottatori lì non sono più lottatori di wrestling, io lo dico sempre ai miei ragazzi, vuoi essere un buon lottatore di wrestling? Non devi essere un lottatore di wrestling, cioè quello già lo devi saper fare, è un'icona, e sì, è come te che ti, non so, prendi il diploma a scuola e io ti assumo, io do per scontato che tu sappia leggere e scrivere, Certo. Ok? Quindi tutto quello che devi fare adesso è un lavoro extra per arrivare a puntare ai piani alti dell'azienda in cui lavori, se tu mi fai vedere solo che sai leggere e scrivere e fare il minimo che ti viene dato, te rimani lì. I lottatori che invece fanno successo sono quelli che sono instancabili, vogliono essere dappertutto, vogliono fare le cose buone, hanno le loro attività di beneficenza, aprono accademie, insomma, si danno da fare, quindi è estremamente meritocratico, nel senso che se non fai nessuna di queste cose extra rispetto a essere un bravo lottatore, è veramente raro che tu vinca dei titoli. È la promozione verso questa disciplina. Esattamente. Tu sei un grande promoter di questo sport e vieni ripagato con immagini. Anche, però la cosa che le due qualità che mi distinguono meglio come lottatore sono sicuramente la grande visibilità, mi faccio vedere tantissimo, ma anche gli incontri che faccio su ring, cioè se uno vede un incontro su ring io sembra che il mio avversario lo ammazzo, cioè poi ci sono anche delle tecniche raffinate, precise, c'è una ricerca di quello che faccio e poi la capacità che pochissimi lottatori hanno in generale è quella di parlare, improvvisare, creare, intrattenere. Ci sono dieci persone, le intrattieni, basta, non è cosa devo dire, cosa devo fare. Hai due o tre minuti, prendi il microfono, fai il pubblico felice, a posto vado. Quindi sei l'ultimo degli intrattenitori se hai fatto bene il wrestling, se hai fatto male, terribile. Il wrestling, quando decisi di farlo come lavoro e quindi avevo quel piccolo budget di soldi del lavoro che facevo prima in ceramica, mi ha dovuto insegnare come parlare, come presentarmi, il wrestling mi ha insegnato l'inglese, come vendermi. Ho detto, wrestling o pomodori, non fa differenza per me. In Italia il wrestling non ha mercato, cioè, se fai il lottatore di wrestling e basta, con i soldi che guadagni dagli incontri non vivi. Ci devi costruire un business, quindi l'idea del wrestling mi ha fatto fare un sito internet con il merchandising, mi ha fatto fare tante attività, due molto belle, una è wrestling versus depression e l'altro è wrestling, a sostegno dei ragazzini che vengono bullizzati nelle scuole, quindi andiamo nei comuni a parlare di questa cosa con le scuole, quindi tutto lavoro extracurricolare per usare una figura che catturi l'attenzione dei bambini e entrare in tematiche importanti. Faccio sempre podcast o conferenze stampa o programmi cioè mi piace mischiarmi anche con la mia fisicità, la posso usare per far ridere, la posso usare per far vedere realmente una tecnica o qualsiasi cosa legata al mio personaggio anche fuori dal luogo comune per suscitare una reazione nel pubblico. Quello è molto 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 difficile e sono le qualità che devi incastrare. Si distingue ovviamente. Anche quando per dire esco col mio vestito la gente fa wow, cioè che figata. Sì, colpisci. Sì, io devo adattarmi, non sono come lui o come Dwayne Johnson che sono alti due metri e sono enormi. Certo devi trovare le tue. Io devo trovare l'equilibrio quindi ho sulla schiena tutto un tatuaggio con lo scorpione, i muscoli per l'amor di Dio, un costume bello appariscente. I miei costumi sono i più belli ma lo dico sempre da fan non da Fabio cioè chi sta sotto Fabio è anonimo si fa gli affari suoi non ne vuol sapere niente però per i miei costumi io per ogni costume spendo 2000 euro il lottatore medio se spende 150 euro è già troppo. Dov'è che li fai questi costumi? C'ho un costumista che è un mastro mascheraro messicano tu devi sapere che le maschere di wrestling vengono fatte da lottatori di wrestling mascherati per lottatori di wrestling mascherati. Quindi io ho lo stesso costumista da più di dieci anni che mi fa vedi questo design è sempre lo stesso ma è stato evoluto in quattro differenziazioni in quattro level up diversi e fa costume mi fa i polsini mi fa i mantelli e costa io ho più di dieci costumi diversi e molti li vendo quando hanno finito il loro percorso ce li metto all'asta per i fan ma fare la matematica è un lavoro che costa se lo vuoi fare bene anche io potrei mettermi una mutandina e finirla così. Quanto dura un costume? Dipende dipende da quanto lo usi da quanto ci sudi dentro da quanto sei bravo a lavarlo? Adesso lo vedi è bello è brillante ti posso assicurare che quando l'ho comprato c'era così brillante che ti abbagliava adesso ne ho uno nuovo che è con l'argento e brillanti è una roba il più fancy tra i costumi che ho fatto se no quando sono in un mood un po' più da picchiatore metto il costume nero e rosso lì vuol dire sono botte cioè vuol dire poche chiacchiere può succedere non crediate che il wrestling sia sempre predeterminato così molte volte dicono ragazzi vogliamo il match di wrestling il match di wrestling avete dieci minuti divertiteci e i lottatori vanno realmente si fanno delle prese se le reversano e se uno non è bravo a reversarlo lo tieni giù soprattutto i lottatori giapponesi cioè quelli se non sei capace raccontaci un po' dei tuoi viaggi all'estero come sono nati come funzionano allora io la cosa bella che dico sempre ai miei allievi quando sono impazienti no? quando debuttai nel 2006 2007 io facevo un match ogni sei mesi adesso negli ultimi sei mesi ho girato 17 paesi del mondo diversi quanto ci vuole a preparare un match? oh se sei un professionista pochissimo e vedi i ragazzi per dire i ragazzi giovani hanno un match di cinque minuti si mettono lì dalle tre di pomeriggio e ripetono fino a poco prima del loro incontro i professionisti spariscono non vogliono rotture di palle per tutto il momento mezz'ora prima della campana mezz'ora prima della partenza dello show vengono date le comunicazioni base buono cattivo lui over vogliamo vedere questo e questo molte volte i lottatori vanno sul ring e improvvisano a me piace gli ultimi quattro match che ho fatto erano tutti improvvisati tranne l'ultimo in cui ho difeso la cintura che ho vinto il giorno prima in cui invece era un match non preparato in tanto tempo però ben preparato perché richiedeva delle esecuzioni molto importanti cioè il tipo che si lancia all'indietro in salto lunare su di me e io devo arrivare esattamente preciso per farlo atterrare sulla mia spalla un po' avanti e lui mi spacca le caviglie un po' indietro e lui mette le gambe qui e cade di faccia quindi quelle erano delle coreografie particolari lui che mi aggancia sui piedi mi lancia fuori dal ring quindi quello è un match che non lo proviamo andiamo sul ring vediamo quali sono le posizioni per evitare di ammazzarci e poi basta i professionisti non preparano tanto vogliono anzi che la sensazione che hanno quando entrano sul ring sia quella che li guida se il pubblico è molto attento fai un certo tipo di cosa il pubblico di Bologna quando sono uscito con la cintura è esploso quindi ovvio che bisognava partire col match con i fuochi d'artificio lanci, lanci, salti capriole e quindi in realtà è proprio come un artista che deve usare i colori dipende hai solo le matite userai matite di diversa durezza hai il rosso hai colori primari hai secondari inizia a fare il tuo dipinto in un certo modo e a metterci anche i tuoi marchi di fabbrica però ecco scusami ma quando tipo ci sono le coreografie tipo con sediate oppure lanci su sti tavoli che si spaccano completamente come fate a non farvi male? cioè vi fate male effettivamente o non vi fate proprio male? posso dirti di sì la questione noi abbiamo un modo di cadere che nella grande nella stragrande maggioranza dei casi ti salva cioè ti lascia contuso ma ti salva però te ti ricordi di Big Show no? sì lui si sedeva sulle sedie di ferro ora lui pesava 250 kg la sedia non si rompeva ah non si rompeva ma la vedevi quando lui si sedeva poi la prendeva e te la dava in testa cioè se una sedia non si rompe se metti Big Show qui sopra la sedia si piega se te la sbatte in testa ti fa malissimo e che sono sedie fatte in ferro che se gli dai una pacca fa un gran rumore allora noi ce la diamo sulla schiena dove abbiamo come lui ben sa uno strato di carne grasso muscoli due tre volte superiore a una persona normale quindi noi cosa facciamo facciamo cuscino con i muscoli e incassiamo il colpo sentiamo male come uno che ti dà uno schiaffo cioè i colpi che vengono dati non sono finti perché un po' il pubblico se ne accorge no infatti io a un certo punto pensavo quasi che le attrezzature fossero finte no 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 il tavolo quando vedi un lottatore che comunque pesa più di 90 kg e lo metti su un tavolo il tavolo non si spacca è già più duro di un tavolo da picnic c'è poi i conti che il tizio tipo io una volta ho preso un volo da uno che si è lanciato da quell'altezza lì ero sdraiato su due tavoli io non ho camminato due settimane ora se ci penso lo faccio solo per se pagano veramente bene oppure se si può evitare lo evito però una volta sai bisogna farsi vedere bisogna farsi un nome eccetera se tu vai sul mio profilo instagram red scorpion vrest io pubblico sempre la chop compilation dove do gli schiaffi sul petto e quello se lo tira una persona normale è un omicidio rischia di bloccare se si cuore non hanno lo strato muscolare e sono schiaffi dati proprio appieno sul petto più forte che puoi anzi lì vince lì ci si sfida sul ring chi te lo dà più forte perché quando uno lo prende troppo forte dice no no non ce la faccio più in Giappone specialmente a volte durano cinque minuti a tirarsi schiaffi sul petto finché uno dei due non ce la fa più perché devono dimostrare specialmente in Giappone devono dimostrare che tu sei come quei personaggi che hanno loro quei super roboti Giappone io sono andato due mesi a fare un tour una terra meravigliosa per il wrestling cioè io sono andato ad allenarmi nel campione giapponese di panca piana da gara quindi 225 kg confermo un mostro e io facevo i miei stacchi io con lo stacco arrivo a 2,55 ho fatto quei risultati lì e dicono cazzo io ho lottatore di wrestling magari scuota 180 kg 5-6 volte stacca quei pesi lì è un legittimo lottatore di wrestling quindi venivano le celebrità di quel luogo lì la campionessa di barca a vela il campione di golf per venire a fare le foto con me in allenamento e prendere il famoso schiaffo nel petto perché in Giappone è una delle cose più spaventose se tu lo prendi vuol dire che sei coraggioso e là gli sponsor ci portavano sempre a cena fuori mi ricordo primo match in Giappone mi spacco i denti c'era lo sponsor che era un dentista quindi ci ha messo a posto si erano tutti i denti quello davanti proprio ho sentito i pezzi che cadevano proprio appena arrivati in Giappone giorno dopo allenamento non avete una sorta di paradenti il dentista quel dentista lì che aveva questa clinica super fancy bellissima mi ha fatto anche un paradenti fatto a posto customizzato lo sito Scorpion perché era uno sponsor dei lottatori in Giappone abbiamo avuto lo sponsor che aveva un locale di ragazze filippine che ripeto strip club sì ma anche proprio ragazze che è lui ha regalato tutti i lottatori due tre ragazze soprattutto se eri alto in grado per divertirti quella sera ora ripeto tu puoi chiamarmi scemo quindi ci sta però non nascondo niente arrivato lì io ero tra gli stranieri chiamato il gaijin più esperto più anziano quindi ogni volta che bisognava fare qualcosa era Scorpion Sun tu per primo Scorpion Sun tu prendi da mangiare per primo tutte quelle robe lì quindi quando siamo arrivati in questa discoteca dove c'era questo branco di ragazze bellissime disposte su tre scalini a forma triangolare tipo Miss Italia e il promoter col suo grande inglese forbito fa Scorpion Sun you choose tu scegli ho detto qua bisogna stare al gioco e quindi ho detto uno due tre con me quando poi mi sono messo a parlare con queste ragazze perché parlavano bene l'inglese scopri che queste ragazze filippine hanno lasciato casa si sono sposate in Giappone hanno fatto figli hanno divorziato per avere la cittadinanza e fanno due lavori hotel e strip club per pagare la scuola ai figli quindi io so come funziona non sono uno che gli interessa andare a pagamento non ce n'è bisogno a meno che tu non abbia seri problemi o sia pervertito o qualsiasi altra cosa se sei normale lo fai senza e quindi io lei però diceva però il capo vuole che facciamo roba perché c'è proprio la mentalità anche lì strana il capo il boss vuole che facciamo roba perché perché se no sembra che tu non hai gradito quello che il nostro servizio e dopo noi non possiamo più lavorare qui e ho detto ragazzi fatemi un massaggio alla schiena con l'olio che dovete fare e quindi io in questa discoteca in questa discoteca in cui c'era il privé e io ho messo così su sto trono come un pascià perché i lottatori guardavano tutto da sti troni era con due o tre ragazze che mi massaggiavano con tutti i tatuaggi quindi gente che veniva a fare le foto perché in Giappone solo i mafiosi hanno i tatuaggi però sugli europei sono visti con fascino è un po' come se te dici non so il mafioso italiano te fai poi tu dici hai la possibilità di conoscere uno della Yakuza col fatto che tanti chilometri di distanza dici ok è sempre male ma intriga quindi questa idea che io fossi un mezzo mafioso mascherato italiano che nasconde la sua identità perché hai tatuaggi quindi è un mafioso in più veniva massaggiato da queste bravissime ragazze faceva scalpore loro quello vogliono quindi il lottatore di dressing di tirare sui pesi di fare le foto con i bambini è invincibile io non facevo neanche la spesa i fan mi portavano i gadget da mangiare i noodles i spaghetti il riso il sushi e anche la roba per la casa cioè tipo il sapone per lavare i pia non volevano eri tipo una divinità trattamento speciale infatti quando sono tornato a casa ero in aerico che cazzo sto facendo dovrei rimanere lì il problema è che è bellissimo il wrestling però devi anche integrarti lì c'è i giapponesi sono buoni ma anche diversissimi da noi hanno tutto un modo di intendere le cose di esprimere le cose diverse non dicono mai nessine no è sempre maybe una cosa bella del wrestling è che devi essere capace di giudicare possibilmente le persone rapidamente perché ogni giorno vedi persone nuove io potrei vedere un giorno gente di New York due giorni dopo gente di Tokyo per dire ed è quello il suo bello cioè ti rende ti modella ti rende adattabile a tante situazioni ma come funziona il fatto che viene invitato a questi show all'estero come cioè io se domani inizio a fare wrestling se vuoi arrivare a quelli da noi lì come faccio? allora facciamo un esempio ah beh questa è la domanda da un milione di dollari ok all'narsi insistere rompere i coglioni rompere i coglioni perché nessuno ti verrà mai a cercare a meno che questa è una cosa che mi sento di dire la gente deve smettere di guardare l'esempio del vincitore della cazzo di lotteria è uno è vero su milioni o miliardi che però ha una risonanza anche se è uno che arriva a milioni e miliardi nel 99.9% dei casi se non hai la vera botta di culo esempio io sto parlando con lui un organizzatore della WWE lo vede e dice cazzo è famoso è grosso prendiamolo in WWE lo prendono lo allenano e tra tre anni è la star più pagata in WWE ecco quello è vincerà la lotteria escluso quello che è assai improbabile ma crediamo e abbiamo fede devi allenarti un sacco rompere i coglioni essere bravo il vero wrestling si fa in macchina negli spogliatoi lì si prendono contatti tu la battaglia la vinci negli spogliatoi perché mi vedi sempre in giro perché negli spogliatoi io ho la mia aura quindi i ragazzi vengono a chiedermi consigli devi provare a essere disponibile sanno che sei un lottatore safe quindi non fai male a nessuno ma allo stesso tempo sai creare pathos sai intrattenere fai quello che ti viene detto sei un buon performer per quello che serve alla federazione immaginiamo che Gian voglia aprire una federazione di wrestling sicuramente vuoi belle ragazze che possibilmente sappiano combattere sicuramente vuoi dei lottatori che siano estremamente grossi sicuramente vuoi dei lottatori che siano anche giganteschi vuoi dei lottatori che sappiano fare dei voli delle manovre delle acrobazie vuoi dei lottatori che siano un po' over the edge che sappiano parlare essere provocatori e vuoi anche dei lottatori che sembrano i classici lottatori il mascherato è il lottatore tra i lottatori il mascherato è uno dei simboli del wrestling quindi cosa fai? prendi il tuo portfolio o apri i tuoi social e ovviamente scegli i lottatori che ti appaiono perché sono più influenti eccetera quindi o tu conosci quel lottatore lo vuoi e molte volte è così oppure la gente per dire apri il mio profilo e dice oh ha lavorato per Bretard Osta fa i video i social e quelle cose lì Osta ha vinto una volta il titolo del mondo eccetera eccetera i social influiscono tanto i social influiscono molto poi se tu hai costruito il tuo nome ed è grosso grosso tipo non so conosci Brock Lesnar lui non ha i social non gliene frega un cazzo dei social però è il lottatore migliore secondo me del mondo perché ti fa sempre credere di aver ucciso l'altro e fa una marea di soldi però lui ha il sostegno della WWE della UFC della TV americana il bello di adesso è che tu grazie a questo non hai più bisogno strettamente di essere nelle grandi leghe americane anche perché se vuoi vivere di wrestling con un contratto le federazioni che possono offrirti un contratto non è come il calcio che anche chi fa la serie C ci può campare quindi quanta gente può campare di calcio solo in Italia figuriamoci nel mondo le federazioni di wrestling che possono darti un contratto importante nel mondo sono pochissime io sono arrivato a farlo diventare un lavoro ma perché ho usato tutta un'altra metodologia che chiunque può applicare nel business o in qualsiasi altra cosa si e dopo mi vendo ovviamente il fan trova di tutto da contenuti virtuali a contenuti fisici a merchandising addirittura le lezioni private di wrestling qualsiasi cosa e bisogna far così c'è gli altri lottatori che campano singolarmente senza contratti è perché hanno un'ottima pubblicità e usano il cellulare e diventano come adesso è la moda cioè te non hai fatto uomini donne cioè non hai fatto l'isola dei famosi però se io vado in palestra da me dove mi alleno e dico conoscete Gianna ma la maggior parte dei ragazzini o di chi di chi segue tiktok e instagram ed è fissato con i pesi eccetera conosce te come conosce tanti altri che non non è che c'è un programma televisivo in cui mettono i palestrati esatto e per quanto riguarda appunto quello che dicevi ora sul fatto che ci sono comunque federazioni che pagano tra visite di più come funziona cioè tipo vengono pagati al mese o vengono pagati a vittoria io sono libero professionista quindi ho la mia partita IVA mi fanno un contratto che va a chiamata oppure pagano la performance che sia per la televisione per qualsiasi cosa o per i match poi c'è la società sportiva che ha altri modi appunto di dare rimborsi e benefit e quello che serve se hai un contratto vieni pagato quanto da tuo contratto faccio un esempio Roman Reigns che è il lotatore di wrestling più pagato al mondo adesso prende 15 milioni l'anno per esibirsi un numero limitato di volte avere un bus tour tipo quello delle più grandi rock star del mondo ma che usa da solo la maggior parte dei lotatori di wrestling per dire magari guadagnano cifre minori rispetto ad altri personaggi del mondo dello spettacolo cioè i più pagati nel mondo del wrestling vanno dai 6 milioni ai 15 poi vanno su con gli sponsor eccetera magari i calciatori altro prendono di più ma la maggior parte dei lottatori di wrestling alcuni hanno l'aereo privato alcuni perché devono girare tutto il mondo cioè io ti lascio immaginare la fatica quando vinsi il titolo del mondo io ero via da 5 giorni cioè ho fatto un giorno in Polonia il giorno dopo in Svizzera il terzo giorno a Immola cioè 3 mete diverse in Europa cambiando non so quanti aerei eccetera se avessi avuto un elicottero un aereo sarebbe stato molto più facile ma quel tipo di grinding tutti i lottatori lo devono fare cioè se tu performi bene certo e sei stanco e non hai mangiato e sei infortunato e sei infiammato e c'hai tutti i cazzi contrari ma performi bene lì si vede un vero professionista io ogni match di wrestling che ho fatto ti posso dire esattamente che infortuni avevo dove avevo male se non avevo dormito se avevo avuto mal di stomaco la sera prima tutti i match perché è raro che la vita non ti presenti almeno un intoppo in generale nella fase che ti porterà al prossimo incontro specialmente se ne hai uno ogni giorno per sette giorni di fila comunque sei stato molto bravo perché si vede che hai investito i tuoi soldi il tuo tempo per crescere sempre di più di immagine e questo poi ti ha portato a campare di questo certo un po' come come ho fatto anche tra virgolette sono partito che lavoravo al mercato tutti i soldi che guadagnavo li rinvestivo nella mia passione e oggi è diventato il mio lavoro diciamo il percorso è lo stesso ma infatti non c'entra il wrestling non c'entra non c'entra il wrestling non c'entra la cultura fisica abbiamo delle persone che ci aiutano che ci stanno vicino i vari manager social media manager c'è il fotografo quello che mi segue con le telecamere e fa i video per youtube quello si tra l'altro la storia interessante se si può dire io e te siamo quasi partiti assieme esattamente magari non menzioniamo cose però abbiamo registrato un video assieme dove ci siamo conosciuti un giorno per girare un video youtube esatto e tu comunque eri nel tuo settore io nel mio sì noi eravamo già inquadrati e molto bene nei nostri settori poi negli ultimi anni abbiamo detto però possiamo ce la caviamo a parlare non ci siamo più visti per sei anni e ognuno ha preso la sua strada e siamo cresciuti intanto siamo quasi coetanei e facciamo più o meno come dici te la stessa roba esattamente in ambiti diversi poi le regole sono quelle esattamente e invece senti in termini di alimentazione tutto col fatto che comunque quante volte ti alleni a settimana circa io cerco allora è complesso perché dipende anche dalla schedula dei viaggi per dire adesso starò via oggi domani e tu parto poi per la Bulgaria poi vado in Inghilterra e torno il 4 novembre in Italia da oggi tornerò il 4 novembre in Italia quindi starò via circa 10 giorni e dipende dove arrivo quando sarò in Bulgaria ho la casa mi danno la casa e tutto posso andare ad allenarmi adesso che invece devo fare Milano Roma eccetera mi sono dovuto allenare ieri e faccio due giorni di riposo quando ho delle settimane più tranquille provo a fare 5 volte a settimana palestra e poi ring con il mio sparring partner almeno 2 volte a settimana quindi cerco di mantenere quell'allenamento lì e per quanto riguarda l'alimentazione io ho sempre provato cambiato perché alla fine sono un golosone quindi arrivo che prendo peso e poi devo trovare il nuovo metodo new age per perderlo l'ultima dieta che ho provato è parlavamo prima la dieta carnivora com'è la dieta carnivora carne rossa di animale possibilmente grassa non magra quindi manzo meglio del pollo uova intere sale e acqua iniziai quella dieta perché in Giappone a furia di allenarmi a fare powerlifting e poi era veramente freddo la sviluppai un'infiammazione all'inguine per cui rischiai quasi dovermi operare quindi match per match mi dovevo fare le iniezioni di di cloreum muscoril giusto per poter arrivare al match successivo non mi riuscivo più a muovere come cazzo sono arrivato qua non posso fare niente iniziai a mangiare solo carne per l'ho fatto per tre mesi quasi ma dopo tre settimane tutti i mali mi erano passati tutte anche le infiammazioni minori gomiti come tu sai polsi spalle si vede che era arrivato a un tale livello di infiammazione che c'era bisogno appunto dei chetoni perché comunque una dieta chetogenica se mangi solo carne e uova e quindi poi sono stato bene ho ripreso ad allenarmi adesso da un paio di settimane ho ripreso a mangiare pulito quindi un po' di riso questa dieta l'hai fatta solo per un breve periodo volevo provare sfiammare diciamo l'articolazione io non ci credevo neanche ho detto farò due giorni mi rompo le palle e smetto in realtà i benefici di quella dieta lì è che per come è il mio stile di vita mangi una barra di volta al giorno ho messo su peso paradossalmente cioè muscoli prima della dieta ero sui 90 chili ho messo su 3-4 chili nel mentre in questi tre mesi e le infiammazioni passano non hai questa continua fame da moda pasto insulina su insulina giù ma il picco insulina sì poi ripeto ci sono tanti studi che dicono che faccia male tanti studi che dicono che faccia bene come la dieta paleolitica la dieta vegana per togliermi le infiammazioni che erano un problema che mi affliggeva tantissimo perfetta adesso ho 34 anni combatto molto meglio e il mio match migliore l'ho fatto la settimana scorsa tra l'altro di quando ne avevo 20 perché hai migliorato l'esperienza ma anche perché faccio molta più roba sono molto più veloce più grosso più forte ok cioè proprio anche in termini più prestanti sì quindi sì sicuramente sai utilizzare meglio il tuo corpo e risparmiare l'energia dove serve però anche il fatto di non avere male aiuta certo ti volevo chiedere una cosa io ho visto qualche anno fa il film quello Wrestler The Wrestler con Mickey Rourke sì bellissimo molto però è una storia molto tragica e racconta diciamo il retroscena di questo lottatore certo che fa una vita diciamo molto al limite passato dalle stelle alle stelle tu riscontri che nel tuo settore ci sono tanti che vivono in quella modalità oppure sono tutti come te che comunque se la vivono quella è considerata la vecchia scuola la vecchia scuola del wrestling parte dai fini anni 70 anni 80 e poi sfocia negli anni 90 negli anni 80 era sesso droga e rock and roll quindi eri una rock star o lottatore di wrestling non faceva differenza quando arrivavo nei lottatori di wrestling negli anni 80 ci sono documentari dove c'era più gente per aspettare tipo i road warriors o andre the giant o al kogan che è madonna o michael jackson a tokyo per dire si montavano la testa non è che si montavano la testa qualcuno sicuramente sì era proprio il fatto tu devi immaginare questi lottatori viaggiano 300 giorni l'anno parliamo della vecchia scuola prendono anabolizzanti perché comunque aiutano anche quando ti devi spostare sempre ti recupero muscolare sì poi ti ingrossano bevevano di continuo perché avevano un gran male fisico e l'alcol è un grande gli alcolici sono un grande antidepressivo e antidolorifico quindi entrambe le malattie che potresti avere per uno scompenso ormonale dormire poco litigare con la moglie che non ti vede mai a casa dover fare qualcosa che non ti va sul ring essere scontento del tuo stipendio veniva colmato con l'alcol la droga la cocaina gli anabolizzanti cioè non perché erano lottatori di wrestling erano le rockstar quindi tutti questi lottatori qui morivano anche giovani c'è un elenco infinito di lottatori che sono morti 35-40 anni per overdose cosa faceva erano enormi e andava bene si allenavano il corpo resisteva poi cosa succede dei soldi finivano rimaneva solo la droga e non avevano più i muscoli e le abilità e l'età per sostenere quelle droghe lì se tu prendi lottatori come Alcogan lui sì ha detto io prendevo anabolizzanti ma io andavo in palestra tutti i giorni e non facevo sempre gli esami del sangue non ho mai avuto problemi e lui ha fatto i miliardi i milioni ed è ancora vivo cammina male ma ancora vivo altri che erano sul tetto del mondo a 40 anni si sono spenti adesso il male del cellulare che viene demonizzato salva tra virgolette perché scrollare sui social media è una droga a volte un po' più potente e meno costosa di quelle che trovi fuori quindi vedi che i lottatori ora sono molto più da finisco il mio match vado in camera da letto magari si fumano un po' di marijuana perché anche lì non voglio demonizzare la marijuana anzi quando finisci uno show sono le 2 di notte vai a mangiare se ti capita mangi solo McDonald's e stai cercando di rimanere in forma ti devi alzare alle 5 per prendere un volo alle 7 vai a letto alle 3 e stai tutta l'adrenalina e non dormi ti fumi un cannone e vai a letto in passato come facevano non andavano a letto andavano al bar si sfondavano di alcol e poi dormivano in aereo e bevevano altro alcol quindi avevano fegati rovinati uso di droghe uso di anabolizzanti antidolorifici antidolorifici abusano tanto ma questo sto parlando della vecchia scuola abusavano perché molti lottatori tipo come Randy Orton o tanti anche famosi Ray Mysterio hanno raccontato di come una volta le pillole negli anni 80-90 erano molte più facili automedicarsi adesso hanno tutto i psicoterapeuti hanno tutta la ginnastica posturale fanno lo yoga e le respirazioni li fanno meditare prima dei match tutto lo sport in generale è migliorato anche i giocatori di football fanno più attenzione ai traumi cranici per evitare che storie come quelle di Benoit o altri lottatori si ripetano quindi ora il lottatore di wrestling è un po' più moderno è un po' più moderno quindi è come il classico video della persona per bene che si sveglia la mattina mette la giacchettina fa vedere che calzini che mutande si mette il giacchetto sborsa dalla palestra e fa il video per i social una volta te i lottatori non vedevi niente li vedevi nei poster e sicuramente li trovavi al bar prima e al bar dopo sempre circondati di donne io ho frequentato molti ambienti vecchi a scuola perché mi sono dato al wrestling più indipendente che è un wrestling più di intrattenimento a livello di mosse recentemente ma per anni io ho lavorato in ambienti vecchi a scuola dove si fanno anche molti più soldi con la vendita del merchandising perché ci sono tanti bambini tante famiglie e io non ti dico i vedevo lottatori che finivano il match avevano già la riga di cocaina sul loro tavolo veramente sì ma anche se vai in giro e vai nel mondo dello spettacolo dei tempi vedevo lottatori che bevevano prima e dopo gli incontri perché tanto erano dei giganti ed era il wrestling vecchia scuola non dovevano fare chissà che sul ring io una volta andai a combattere in Belgio bellissimo show pieno di spettatori finisco il match torno nello spogliatore sono cinque ragazze con dei nastri tipo Miss Belgio quello che è completamente nude con le bottiglie di champagne che correvano a destra e a sinistra e l'organizzatore che gli andava presso e io ho visto solo in Giappone posso raccontare storie di come credo di avere in un locale in cui ci porta uno sponsor che era un dottore ci dice se uno è appassionato di wrestling e ha soldi va con i soldi dalla federazione e la federazione gli dà i lottatori li porta a cena fuori capito come se te sei piena di soldi e vai nel Milan e dici voglio cenare questi due calciatori però che ne so sei della Barilla sei della Ferrero puoi spendere due trecentomila euro e fai una cena con il calciatore per tuo figlio per dire quindi ci hanno portati in questa sala privata dentro un locale chiuso in cui questa sala privata ci arrivavi tramite un corridoio poi c'erano tutte queste belle donne tutte queste persone che fumavano vestite di nero eccetera quelli erano mafiosi alcuni dei maggiori organizzatori delle federazioni di wrestling giapponesi di quella zona lì e la parte della nostra federazione noi come stranieri cioè io ne ho viste di scene vecchie a scuola chi poi era negli anni 80 ne ha vissute ancora di più i lottatori erano anche molto bellicosi perché appena sentivano dire il wrestling è finto c'erano lottatori poco inclini a quello ti staccavano il naso con un morso ci sono storie di lottatori samuani i parenti di The Rock che loro addirittura mi ricordo uno l'hanno chiamato selvaggio se guardi i film di The Rock o i suoi documentari c'è suo nonno questo lottatore inglese lo chiamò selvaggio e questo qui si alzò e gli cavo un occhio per dirti quindi c'è lottatori di wrestling una volta non gli volevi rompere le palle proprio perché gente arrivava e diceva ma si voi fate una finzione loro ti mandavano in sedia a rotella e quindi la voce si spargeva ora i tempi sono cambiati adesso non puoi neanche più usare certe parole che dopo ti cancellano non puoi più esibirti non puoi già fare niente adesso è cambiato tutto drasticamente quindi ognuno consiglio ognuno si faccia i cazzi suoi parli poco e curi molto di più ciò che c'è da vedere e tenga le proprie opinioni per sé ma proprio perché è cambiato così tanto il mondo del wrestling il giro di denaro è maggiore ora o prima secondo te? allora io sento delle storie di lottatori del passato che di denaro paradossalmente ce n'era meno tra virgolette nelle grandi compagnie cioè chi veniva pagato tanto una volta veniva pagato 1 o 2 milioni l'anno che era tantissimo adesso 15 milioni però una volta se uno magari faceva una settimana in Giappone gli davano anche 5 o 6 mila euro a settimana che caccia via nei territori inglesi loro combattevano tutte le sere per sei mesi quindi avevano gli davano lo stipendio settimanale gli davano la roulotte quindi c'era più possibilità di fare soldi e adesso essendo diventato anche tutto molto social molto così molti ragazzi si propongono anche gratuitamente pur di farsi vedere quindi ripeto io non posso parlare per i vari lottatori io lo dico sempre ridendo e scherzando a me non piace guidare ho preso ho preso una gran bella macchina grazie al wrestling ma non la guido cioè l'ho cambiata adesso ne ho presa una nuova l'ho data indietro con 24 mila chilometri l'ho presa perché quando vado in giro non so per fare sponsor eccetera il campione europeo italiano del mondo di wrestling deve avere una macchina adeguata orologi adeguati ma forse per me non lo farei in passato i lottatori lo facevano sempre quindi è un po' non posso parlare per gli altri lottatori italiani parte dei miei dei miei incassi sono anche gli sponsor o gli sponsor per gli eventi che tipo di sponsor? allora io quando organizzo degli eventi di wrestling organizziamo degli eventi di wrestling può essere ogni tipo di sponsor cioè io vado delle attività a cui lascio più denaro e gli dico sto organizzando un evento quindi loro trovano la formula pubblicitaria per infilarsi nell'evento e finanziano quell'evento quindi non so ad esempio Banca Mediolanum è la mia banca loro finanziano sempre i miei show quindi possono mettere il loro banner a bordo ring oppure un'azienda di fotovoltaico che abbiamo nel mio paese importantissima che fa questi lavori in tutta Italia e anche nel mondo che è l'Aleare Energy quindi dalle aziende più disparate per quanto riguarda gli eventi quando invece riguarda invece personalmente per dire come sponsor ho una farmacia della mia zona che offre servizi istantanei quindi ti fa esami del cuore esami del sangue esami di tutto sul momento li fai eccetera ho una marca di integratori importanti con cui ho fermato un contratto per dire la compagnia di estetistiche magari ti fa i trattamenti insomma lì dipende per gli altri non posso parlare non vedo mai niente in giro loro dove promuovono dei prodotti quindi non lo so sì quello diciamo è molto soggettivo sì 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 ok ok allora non so se lo sai ok ma noi ad ogni ospite sul finale sì proponiamo una sfida oggi se lo e la prima cosa che ti chiedo è come sei messo a spalle per vuoi fare una sfida a braccio di ferro no rispondi io ho una spalla fuori però dipende cosa devo fare allora la sfida è di push up e facciamo una classifica con tutti gli ospiti ok che appare nello schermo quanti ne riesci a fare esatto massimo oh Gesù io ho allenato petto ieri ottimo comunque è incredibile come tutti usino sempre la stessa scusa tutti dicono che hanno allenato petto io l'ho fatto veramente petto spalle e braccio cosa hai fatto ieri ieri ho fatto petto spalle bicipiti e tricipiti e poi ci ho dovuto mettere anche un po' di gambe ho fatto due allenamenti perché parto per dieci giorni chissà dove sempre stile powerlifting no 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 più bodybuilding adesso cioè c'era sempre lo squat c'è stato lo stacco però marginale ok ok sei pronto? ma sì proviamo poi dopo voglio chiederti un'altra cosa la maschera non me la tolgo dato che l'hai leggera più di me sì una volta che non mi lanciate su un tavolo se fai una mossa dopo ti prendo in braccio dopo ti prendo in braccio questa è una sorpresa anche per me sarebbe bello provarlo anche con te perché uno dice a freddo a freddo facciamo il push up mi rovino e poi ci provo va bene respiro uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci cinci dodici tredici dodici sedici sette diciotto nove cinque 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 sette cinque 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 control tre dovrei sei cinque quinque cinque cinque 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 70, 71, 73, 74, 65, 65, 67, 74, 79, 79, 80,80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90. Un'ultimissima domanda, visto che ormai siamo in chiusura. Esatto, in confidenza. Raccontaci di qualche progetto futuro che hai, cosa stai focalizzando adesso. Il progetto che sto mandando avanti adesso, che ho molto a cuore, come dicevo prima, è Wrestling vs. Depression che è appunto grazie al wrestling arrivare a toccare quei ragazzi che soffrono della malattia della depressione che è molto molto grave, è pesante, non si sa molto ed è estremamente invalidante, ho avuto grandi personaggi che mi hanno dato una mano nel divulgare questo messaggio da Maurizio Merluzzo a Giacobazzi, a Silvia Mezzanotte insomma tantissimi artisti Aued, Il Rosso eccetera eccetera. Progetti futuri, cioè di robe che mi sono arrivate tramite il mio manager o tramite proposte che sono interessanti, faccio piccoli spoiler ma non dico niente di che recitare in un film con la maschera, un film che verrà girato fra l'Italia e il Brasile non do altri dettagli, non si sa ma si faranno le riprese nel 2025 l'idea di scrivere un libro della mia storia però con anche delle immagini e dei disegni tipo fumetto, quindi un libro non solo per bambini ma è praticamente un libro biografico però metterci anche del come posso dire, delle immagini disegnate a spot almeno quello che mi è parso di capire però devo incontrarmi ancora con questa casa editrice e queste sono le due cose più insomma particolari sul momento. Hai nominato una persona e io proprio ieri stavo guardando il tuo profilo su Instagram adesso mi è venuta a mente sta cosa che l'hai nominato. Ho visto che avevi appunto dei post dove dicevi che il Rosso e Fedez mi sembra ti hanno tipo dissato su Twitch allora Fedez Fedez no a dire il vero mi hanno invitato in live perché a quanto pare a Rosso i suoi responsabili sia la Twitch sì chi lo segue poi io dico la roba lì non capisco non seguo lui a quanto pare è la divinità un buffone però è la divinità di quelle scemenze lì e praticamente i suoi manager mi hanno invitato a entrargli nella casa qui a Milano per distruggergli tutto lui ovviamente non ci è rimasto troppo bene poi lo sapeva quindi lui non lo sapeva io e lui non ci siamo mai presentati formalmente cioè io arrivo fuori mi trova sta persona mi porta in camera mi fa vestire poi mi fa vai e distruggi sto poveretto ogni volta si trova l'ultima volta gli ho distrutto la camera aveva la maglia di Boateng aveva la sua foto da ragazzino spaccata con la testa però poi non può fare niente perché è un po' un minchiotto cioè lo smonto cioè fa schifo io pensavo che era tutto finto invece era la roba che fa schifo è che un minchiotto è vero però ha il suo successo quelle robe lì però era reale i suoi manager o quello che è o chi lo gestisce si divertono un sacco cioè e quindi ma lo perculano non è che lo perculano lui alla fine finisce per perculare me perché lui è nel suo stanzino vede entrare sto mostro che fa queste cose ma c'ha tutti i pulsanti per togliere l'audio far sparire le cose togliere il volume quindi cosa hanno fatto dopo che sono andata a distruggerie casa mi hanno invitato a una live mi manda un messaggio su me sei disponibile adesso per entrare in live io avevo appena finito palestra tardissimo ho detto sì mi mandano il link e entro cosa devo fare fate entra e basta io sono entrato e c'era lui Fedez e questa modella io Fedez non figlio ero col cellulare non vedevo niente non l'avevo riconosciuto quindi sono partito io a prenderli per il culo perché il rossa appena sono entrato gli ho dato addosso e lui mi toglieva sempre il microfono quindi passavo pure per cretino Fedez fa c'è Federico e Lucia che ti saluta io faccio chi cazzo è Federico e Lucia e invece c'era Fedez ma non l'avevo riconosciuto non vedevo chi quindi poi hanno fatto la loro piccola coalizione poi li ho mandati a quel paese e poi hanno chiuso mi hanno rinvitato a Milano in un'altra casa e mi hanno detto guarda a parte Dwayne Johnson vai dentro e sfascia tutto mi hanno dato una scala io sono entrato con la scala mi sono buttato sul letto in quel momento anche la telecamera è partita poi ho iniziato a prendere calci le cose io ho strappato la maglia quelle robe lì poi alla fine ho buttato dentro un altro ragazzino così mi distraevano dal picchiare Lucia picchiavo quest'altro sacco di patate e poi alla fine me ne dovevo anche andare e quindi sono uscito ma io ho distrutto tutto cioè ho ribaltato il letto le foto spaccate con la testa e questo è non ho avuto altre informazioni mi hanno detto solo bello 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 e poi io mi cambio e me ne vado e quindi non c'è mai stato questo piacere io sono Fabio piacere io sono non so neanche come cazzo si chiama non ne ho idea non c'è mai io ho conosciuto tutto il suo staff che tra virgolette mi adorano ogni volta che vado ma lo fanno per fargli fare più visual durante le dirette oddio io non sono un esperto di twitch però col fatto che adesso tutti quanti pensano che io e il rosso ci sfideremo in un match di wrestling infatti io per quello che avevi detto prima io ho detto forse io ho visto io non ho ancora firmato niente però se realmente se una persona vuole approcciarsi a un match di wrestling lui deve firmare due, tre, quattro, cinque carte nel momento in cui va io mi ci devo lanciare dal palo sopra non è che gli faccio lo sconto certo cioè nel senso posso togliere posso togliere cinque chili una finta dieta chetogenica lanciandomi dal palo ma gli altri 90 arrivano cioè nel senso quindi meglio che firmi per me poi diventa lavoro quindi saluti questo è me lo chiedono tutti anche in palestra ci sono i ragazzini io sono senza la maschera che mi alleno ma hai sentito Red Scorpion che ci allena in questa palestra il rosso l'ha perculato e secondo me vai gli spacca la faccia io sono lì che ascolto non sanno chi io sia ma sta voce si sta spargendo in maniera grandissima perché tutti i ragazzini lo seguono vedremo tanto se è un giorno libero sarà un match cioè nel senso io quando riempio le date sono sempre contento se vuoi puoi lanciargli una sfida in questo podcast guarda rimuovo il pettorale io anche nel suo nel match non nel match l'incontro che ho fatto in camera sua per giocare gli ho strizzato un capezzolo cioè non c'è neanche il grasso nelle tette cioè non c'è niente presente quando prendi insomma un bombolone gli tiriglia la crema rimane sta cosa ho preso vabbè non facciamo body shaming tanto se lo fa allora fai una cosa guarda in camera e lanciali una sfida così vediamo se l'accetta o la rifiuta rosso sì sì qui 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 ti guardo negli occhi rosso ricordati che ne ho battuti di più incapaci di meno muscolosi di più brutti e anche di più giovani di te quindi non ho problemi no uno dice non ho battuti di più forti no no ho affrontato anche di peggio di te quindi si può far bene insomma grande ottimo io penso che siamo in chiusura quindi ti ringraziamo tantissimo è stato un grande piacere poi rincontrarti dopo tanti anni poi se abbiamo occasione ci alleniamo insieme magari un'altra volta mi farebbe molto piacere te sei esageratamente forte quindi comunque grazie mille Red Scorpion per essere venuto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivare la campanella seguiteci anche su Spotify io vi ringrazio al prossimo episodio nel prossimo episodio ciao ragazzi grazie ancora ciao 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 Grazie a tutti.